Se fossero scolari, meriterebbero una solenne bocciatura, perché non arrivano nemmeno ad una striminzita sufficienza. Parliamo dei parlamentari bergamaschi, i quali, smettendo clamorosamente la fama di proverbiale elaboriosità della gente orobica, si rivelano invece, per dirla alla brunetta, dei veri fanulloni. L'unica eccezione è Antonio Di Pietro, l'unico appunto raggiungere la sufficienza, lo dicono i risultati di una recente ricerca che ha misurato la quantità dell'attività dei parlamentari da un anno a questa parte, contando le ore effettive della loro presenza ai lavori parlamentari. E seppure è vero che la quantità è cosa diversa dalla qualità, viene comunque il dubbio di come si possa lavorare bene se al lavoro non ci si va mai o quasi mai. Per entrare nel concreto, la ricerca ha registrato quante volte ogni parlamentare è stato primo firmatario di un atto legislativo, quante volte è relatore di un progetto di legge, quante volte ha fatto un intervento in aula e quante volte è stato presente alle votazioni. Premesso che i brutti voti meritati riguardano sia i politici di destra che quelli di sinistra, su una scala da 0 a 10 troviamo in prima posizione, come già detto, Antonio Di Pietro, con un indice di attività di 6,44. Lo seguono, senza però arrivare alla sufficienza, Carolina Lussana, 4,81, Iannone 4,59 e Giacomo Stucchi 4,24. Ancora più basso il voto dei seriani Sergio Piffari e annunziante consiglio, rispettivamente Italia dei Valori e Lega Nord, 3,32 e 1,98, nonché quello dell'ex sindacalista Savino Pezzotta dell'Udc 1,74 e del neoeletto presidente della provincia Ettore Pirovano, Lega Nord, che si piazza in terz'ultima posizione con un indice di 1,24. Nelle intenzioni di chi ha stilato questo rapporto c'è evidentemente il tentativo da parte della società civile italiana, cioè di tutti noi, di cominciare a controllare la nostra classe politica, classe politica di cui siamo, a tutti gli effetti, i datori di lavoro.